Per noi è un privilegio poter partecipare insieme ad altre banche, naturalmente della città e del territorio, da anche importanti fondazioni a questo che è un'attività assolutamente doverosa, si tratta di una manutenzione ordinaria ma anche straordinaria, ci sono delle cose assolutamente bellissime, dei reperti lapidei e delle opere d'arte di ineguagliabile bellezza, è ovvio che vanno manutenute, hanno molto tempo e quindi lo sforzo è assolutamente importante e necessario. Mi sembra che quello che è stato fatto fino ad ora è assolutamente importante e con tutti i crismi della scientificità, quindi siamo molto lieti che le cose vadano in questo senso, mi pare di capire che non sia finita qua, ma lo sforzo delle fondazioni e dei grandi istituti è anche quello di seguire nel procedere del tempo queste attività che non sono mai finite per definizione.